le declinazioni degli articoli e dei nomi in tedesco il nome può essere di genere maschile, femminile oppure neutro per i nomi di genere maschile noi sappiamo che si usa DEA ad esempio il trattore in tedesco come in italiano è un nome di genere maschile DEATRAKTOA per i nomi di genere femminile noi sappiamo che si usa DE ad esempio la bambola in tedesco come in italiano è un nome di genere femminile DI PUPPE per i nomi di genere neutro noi sappiamo che si usa DAS la casa in italiano è di genere femminile mentre in tedesco è di genere neutro DAS HOUSE poi ci sono anche i nomi che in italiano sono di genere femminile mentre in tedesco sono di genere maschile e viceversa ad esempio il sole DI SONNE LA LUNA DEAMUNT è come se noi dicessimo LA SOLE E' IL LUNA il sole in tedesco è di genere femminile e quindi si usa l'articolo DI mentre la luna è di genere maschile e quindi si usa l'articolo DEA l'articolo in italiano si usa per indicare il genere del nome e cioè se è maschile o femminile l'uomo DEA MAN la donna DI FRAU oltre ovviamente ad indicare se il nome è singolare o plurale gli uomini DI MENNA le donne DI FRAU mentre in tedesco l'articolo viene usato anche per indicare che funzione svolge il nome nella frase per fare questo noi in italiano usiamo le preposizioni semplici oppure usiamo anche le preposizioni articolate le preposizioni articolate sono formate da una preposizione semplice e da un articolo ad esempio DEL è una preposizione articolata formata dalla preposizione semplice DI e dall'articolo IL infatti in italiano non diciamo lo schermo di IL televisore ma diciamo lo schermo del televisore usiamo una preposizione articolata in tedesco invece al posto delle preposizioni semplici o di quelle articolate che usiamo noi in italiano si usa declinare l'articolo utilizzando i quattro casi e cioè il caso nominativo il caso genitivo il caso dativo e per ultimo il caso accusativo vediamo come si declina l'articolo con questi quattro casi usando la parola man uomo occupiamoci per ora solo del primo caso il nominativo e del secondo caso il genitivo il caso nominativo rappresenta la forma base di un articolo in italiano equivale al soggetto che compie l'azione mentre il genitivo è il caso del complemento specificativo e cioè l'articolo serve a specificare il nome ad esempio se in italiano dico l'uomo è coraggioso in tedesco si dice quindi uso l'articolo determinativo declinato secondo il caso nominativo che in questo caso è l'articolo DEA che traduce il nostro articolo LO se in italiano dico questo è il coraggio dell'uomo in tedesco si dice quindi uso l'articolo determinativo declinato secondo il caso genitivo che in questo caso è l'articolo DES che traduce la nostra preposizione articolata DELLO Gli uomini sono coraggiosi DI MENNA SIND MUTIC questo è il coraggio degli uomini DAS IST DEA MUT DEA MENNA LA DONNA DI FRAU LE DONNE DI FRAUEN DELLA DONNA DEA FRAU DELLE DONNE DEA FRAUEN LA DONNA è coraggiosa DI FRAU IST MUTIC questo è il coraggio della donna DAS IST DEA MUT DEA FRAU le donne sono coraggiose DI FRAUEN SIND MUTIC questo è il coraggio delle donne DAS IST DEA MUT DEA FRAUEN vediamo ora come si declina l'articolo col caso dativo e col caso accusativo il dativo è il caso del complemento di termine e cioè è l'elemento a cui termina l'azione espressa dal verbo mentre l'accusativo è il caso del complemento oggetto che completa il significato del predicato ed è direttamente ad esso collegato senza quindi l'uso delle preposizioni prometeo da all'uomo il fuoco prometeus gibt den man das foia io vedo l'uomo ich sehe den man Dio da agli uomini il coraggio Gott gibt den mennen der mut io vedo gli uomini ich sehe den menna vediamo ora le declinazioni di un gruppo di nomi usando delle apposite tabelle in cui un nome e il suo articolo vengono declinati nei quattro casi al singolare e al plurale notiamo subito che articolo e nome si declinano allo stesso modo per quando riguarda il nominativo e l'accusativo iniziamo dal primo caso il nominativo la bicicletta è un veicolo ecologico das Fahrrad ist ein ökologisches Fahrzeug le biciclette sono veicoli ecologici die Fahrräder sind ökologisches Fahrzeug la ruota della bicicletta è grande das Rad des Fahrrades ist groß le ruote delle biciclette sono grandi die Räder der Fahrräder sind große è una buona idea andare a Roma con la bici sehr gute idee mit dem Fahrrad in Rom zu fahren è una buona idea andare a Roma con le bici molto buona idea con alle biciclette in Roma a guidare sehr gute idee mit dem Fahrrad in Rom zu fahren la declinazione dell'articolo e del nome con l'accusativo di solito è uguale alla declinazione dell'articolo e del nome con il nominativo vediamo ora come si declina l'articolo usando il sostantivo e cioè il nome bambola che è un nome di genere femminile sia in italiano che in tedesco la bambola deve essere bella bella deve la bambola essere belle devono le bambole essere la faccia della bambola è brutta das Gesicht der Puppe ist hässlich in questo caso per declinare l'articolo col genitivo si usa der quindi della bambola der Puppe ma noi sappiamo che der viene usato davanti ai nomi di genere maschile ad esempio l'uomo der Mann mentre per il genere femminile si usa die e anche per il plurale si usa die e per il genere neutro si usa das è come se noi in italiano dicessimo il bambola das Gesicht der Puppe ist hässlich la faccia il bambola è brutta questo ovviamente crea confusione nell'apprendere la lingua tedesca però non vi preoccupate perché anche i tedeschi hanno difficoltà nel declinare l'articolo e il nome le facce delle bambole sono brutte die Gesichter der Puppe sind hässlich Maria gioca con la bambola in tedesco diventa Maria gioca con alla bambola Maria spieltte mit der Puppe quindi in italiano noi usiamo la preposizione articolata alla mentre in tedesco usano l'articolo declinato col dativo dea dea Puppe alla bambola dea Puppe Maria gioca con alla bambola Maria spieltte mit der Puppe è come se in italiano invece di dire Maria gioca con la bambola noi dicessimo Maria gioca con il bambola Maria gioca con le bambole Maria spielt mit der Puppe anche in questo caso l'accusativo è uguale al nominativo questi sono tre sostantivi di genere maschile sia in italiano che in tedesco e infatti al singolare si usa l'articolo dea il tavolo dea Tisch il cane dea Hunt l'albero dea Baum al plurale i tavoli di tisce i cani di hunde gli alberi di boime la declinazione col caso genitivo del tavolo des tis dei tavoli dea tisce del cane des huns dei cani dea hunde dell'albero des baums degli alberi dea boime da notare che la declinazione del plurale nel caso genitivo si usa dea noi sappiamo che dea traduce l'articolo il però in questo caso traduce la nostra preposizione articolata dei dei tavoli dei cani degli alberi dea tisce dea hunde dea boime poi abbiamo il dativo al tavolo al cane all'albero dem tisch dem hund dem baum ai tavoli ai cani agli alberi den tischen den hunden den boimen poi abbiamo l'accusativo che al plurale è uguale al nominativo quindi i tavoli di tisce i cani di hunde gli alberi di boime mentre al singolare differisce dal nominativo infatti il tavolo anziché dire dea tisch si dice den tisch il cane den hund l'albero den baum i piedi del tavolo di fiusse des tischs le zampe del cane di foten des hunds i rami dell'albero di zweig des baums ogni qual volta voi avrete bisogno di sapere con precisione come si declina l'articolo di un determinato nome vi consiglio vivamente di andare in rete e di entrare nel sito di wikipedia nello specifico di entrare nel vizionario di wikipedia in basso nella pagina scegliete la lingua e cioè cliccate sulla voce Deutsch fatto questo digitate il nome del sostantivo che vi interessa in questo modo potrete sapere in modo corretto come viene declinato il nome stesso e il suo relativo articolo che vi interessa a presto a presto a presto a presto